Silvio nel 2008 ha stipulato una polizza vita. L'operatore mi aveva assicurato che era un ottimo investimento che salvaguardava i miei risparmi. Otto anni dopo però arriva la brutta sorpresa. Questa è la lettera che mi è arrivata nel 2016 e qui c'è, questo è stato conto, questa invece è la lettera che mi è arrivata alla fine del 2015 e qui si possono evidenziare chiaramente la differenza di 50 mila euro. Dopo essersi informato ha capito di aver perso i suoi soldi e di aver sottoscritto una polizza unit linked. Immaginate una grande scatola che all'esterno sembra una polizza assicurativa ma che all'interno racchiude altre scatole che contengono fondi comuni di investimento. Il loro valore quindi è legato all'andamento dei mercati. È come comprare direttamente delle azioni o delle obbligazioni e nessuna azione oggi può dare una garanzia sul capitale, quindi sui soldi che vengono versati. In secondo luogo ad ogni scatola lascio dietro qualcosa dei miei soldi perché ci sono i costi, si chiamano costi di caricamento e costi di gestione che si sommano tutti tra di loro. Insomma oltre al rischio fate attenzione ai costi, sono il doppio di quelli di una normale assicurazione.